Il benvenuto è un applauso al sindaco di Roma, che lo accogliamo qui vicino al palco. Credo alla scelta che ha fatto il sindaco di essere qui, in questa piazza, insieme, sia importante per tutti noi, per la città, per il futuro, perché insieme facciamo la battaglia per la legalità. È un grande gesto il mondo del lavoro. Caro sindaco, unitariamente ti dà atto di questo gesto importante perché dobbiamo unire le forze. Non è a caso, dicevo un secondo fa, che oltre al lavoro della magistratura, delle forze dell'ordine, che ringraziamo, ma c'è un lavoro importante che dobbiamo fare all'interno delle classi dirigenti, non una, delle classi dirigenti, di tutte le classi dirigenti, riscoprire il gusto delle persone.